Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Black Myth Wukong, dove oggi parleremo di un altro oggetto speciale, o comunque di un altro oggetto unico, che non è detto abbiate avuto la possibilità di ottenere. Perché vi ricordo che io questi oggetti, in generale, li ho letteralmente trovati a botta di culo. Quindi proprio ve lo garantisco, ve lo dico dal più profondo del mio cuore, della mia sincerità, proprio letteralmente, ho letteralmente avuto botta di culo per trovare questi oggetti. L'oggetto di cui parleremo oggi è un oggetto che si trova sempre nel secondo livello e si tratta delle squame, o comunque delle scaglie di Long, un altro personaggio che si incontrerà più avanti nella storia. Quindi non vi dirò altro. Queste squame, queste antiche squame di Long, emettono occasionalmente una scintilla, quasi a voler richiamare il proprio vecchio padrone. La descrizione purtroppo non ci aiuta tantissimo nel capire come si utilizzino questi oggetti, ma io personalmente, avendo fatto backtracking e cercando in un modo o nell'altro di trovare una soluzione a quest'enigma, vi farò vedere come e dove, soprattutto, utilizzare questi oggetti. La luce del talento brilla fioca in un mondo travagliato. Questa è la descrizione, diciamo, tra virgolette, dell'oggetto, ma se vi posso dire la mia, proprio la descrizione e il funzionamento di questi oggetti non sono letteralmente spiegati da nessuna parte. Vi parla di parlare del vecchio padrone, ma non vi dà né location, non vi dà niente, quindi veramente trovare il luogo dove poter utilizzare queste scaglie è veramente un inferno. Non ve lo posso garantire perché io, come sempre, vi giuro, vi ripeto, che ho beccato tutto a botta di culo, esplorando la mappa, cercando di fare backtracking e cercando di assecondare anche alcune quest secondarie, perché appunto esistono delle quest secondarie, quindi ho la fortuna, in questo caso, di potervi dire come fare e quindi evitare di farvi perdere tutto questo tempo, perché poi ovviamente si tratta sempre di risparmiare tempo. Dove si trovano queste squame? Allora, nel secondo livello, quindi nel livello desertico, dovrete teletrasportarvi al santuario Valle della Disperazione, che è un santuario che comunque troverete di trama, perché dovrete necessariamente passare da questo luogo, quindi non si scappa. Una volta arrivati in questa zona, bisognerà oltrepassare la caverna, che si trova esattamente di fronte a voi, o alla sinistra, in questo caso, del santuario, attraversare questa zona, evitando magari di farsi beccare e ammazzare, e dopo aver affrontato la boss fight del topo grande con il topo piccolo, scendere praticamente fino a questa zona. Una volta che scenderete in questa zona, qui, avrete la possibilità di interagire sul crepaccio, e lanciare il pezzo di carne che vi dropperanno i due nemici, quindi i due boss di cui abbiamo parlato poco fa alla Valle della Disperazione. Una volta che avrete lanciato il pezzo di carne, avrete la possibilità di affrontare una boss fight. Questa boss fight è molto importante, per un motivo ben preciso, perché il boss che affronterete qui... Ecco qua, lo sapevo che tu mi seguivi, pezzo di merda, ma questa volta non mi freghi. Una volta che avrete affrontato il boss, dovrete fare attenzione a una cosa, ovvero farlo attaccare e fargli spaccare questo muro. Vedete? Una volta che il boss avrà spaccato questo muro, voi potrete entrare all'interno di questa fessura. Ma non vi preoccupate, perché se doveste uccidere il boss e in un modo o nell'altro il muro, in questo caso, non dovesse rompersi, potrete romperlo da voi. Come farete a rompere il muro da voi? Dovrete necessariamente utilizzare uno spirito grosso. Uno spirito grosso che faccia dei danni pesanti contro il muro. Il consiglio che vi do io, anzi, più che spirito, una vera e propria magia in realtà. Quella che vi consiglio io è... Una delle trasformazioni che vi consiglio io, non posso farvele vedere qua... Sì, ve le posso far vedere. Era questa, se non sbaglio? Sì, eccola qua. Era la polvere... è la polvere azzurra. Come si ottiene la polvere azzurra? La polvere azzurra si ottiene tramite la side quest del tizio di pietra che incontrerete sempre qui nel secondo livello. Se non sapete a che cosa mi riferisco, potete tranquillamente scrivermelo nei commenti che o farò un video a riguardo o comunque tramite commenti vi indicherò quello che dovrete fare o vi darò la possibilità di guardare appunto dei video o comunque indirizzarvi verso qualcun altro che ha già spiegato come fare. È comunque una ricompensa che si ottiene tramite appunto una side quest, quindi cercate ovviamente di ottenerla, ma se volete avere delle indicazioni precise dovrete completare la side quest dell'uomo di pietra. Basta che voi cerchiate in giro wukong, side quest, uomo di pietra, stone man o roba del genere, dovreste trovare quello che vi serve. Una volta ottenuta questa trasformazione potrete ovviamente utilizzarla per spaccare il muro. Quindi utilizzate la trasformazione, prendete a testate, accraniate il muro fino a quando non si spacca. Una volta spaccato, entrate nella fessura. Una volta che sarete entrati nella fessura, come potete notare c'è uno spiazzale, ma non vi preoccupate perché non c'è nessuna boss fight qui. Ma avrete una chest da aprire. Questa chest, ovviamente, che cosa contiene? Le scaglie di long. Quindi avrete la possibilità di ottenere queste scaglie e da qui comincia il delirio. Perché da qui adesso bisogna capire dove utilizzare queste scaglie. C'è anche un ritratto che un pochettino, almeno in teoria, dovrebbe suggerire l'utilizzo della prima scaglia, ma non è così ragazzi, perché proprio non suggerisce un kaiser. Quindi, una volta ottenute le scaglie, ci sarà del piccolo backtracking da fare, addirittura nel primo livello. Dovrete teletrasportarvi nel primo livello della foresta, esattamente qui, al santuario fuori dalla foresta, nella zona della foresta dei lupi. È un santuario che dovreste trovare per trama, in teoria, quindi non ci dovrebbero essere problemi a trovare questa zona. Una volta teleportati qui, dovrete seguire il percorso, diciamo, iniziale della foresta, e poi da questo lato svoltare a sinistra, e proseguire praticamente dritto fino al raggiungimento della cascata, che ora non era da questo lato, ma devo fare il giro da qua. Perché qui, nel primo livello, non so se qualcuno magari se lo ricorda, o ha avuto modo di ricordarselo in generale, ma è presente una cascata che è impossibile da attraversare. Questa scaglia di long vi permetterà di attraversare la cascata. Quindi, arrivando, seguendo il corso d'acqua, perché potrete tranquillamente seguire il corso d'acqua, che ora da me si è fermato, perché appunto io ho già stoppato la cascata, però una volta arrivati qui in questa zona, sentirete il vecchio long parlare e dirvi che qui vicino è presente, appunto, uno dei vecchi padroni. Diciamo, è come se vi richiamasse all'attenzione. E qui, dove era presente la cascata, utilizzerete la squama, o comunque la scaglia in questo caso, stopperete la cascata e dopodiché potrete addentrarvi nella fessura. Una volta addentrati dentro la fessura, apparirà una cazzing. Non vi dico niente, non vi spoilerò niente, vi dico soltanto che comunque ci sarà un boss. Quindi avrete la possibilità di affrontare un boss. Una volta che avrete affrontato il boss, quindi avrete sconfitto in generale il boss, vi apparirà una cassa. Quindi avrete comunque un loot da recuperare all'interno di questa, diciamo, di questa arena. E si troverà esattamente qui, quindi alla sinistra dell'arena troverete la cassa che potrete aprire per ottenere un oggetto unico. In questo caso è la coda elettrica. Coda elettrica che vi potrebbe servire in generale per craftare un'arma. In questo caso l'arma che si può craftare è questa. Ovvero il bastone della spira di Long, che a me personalmente non mi interessa, perché io ho preferito un'altra arma che mi aumenta un po' il crit rate addirittura, quindi ho la possibilità di poter fare più critici. Però vi posso garantire che se voi siete amanti della posa, del pilastro, questo è un bastone che potrebbe aiutarvi tantissimo. Perché appunto la descrizione, l'effetto unico di quest'arma, che è un'arma speciale tra l'altro, aumenta discretamente tutti gli attacchi della posa del pilastro. Quindi potrete utilizzarlo e potrete sfruttare la vostra stance preferita tramite questo oggetto. Detto ciò, questo era il primo utilizzo della scaglia di Long, ma non è finita qui, perché la scaglia di Long si può utilizzare anche nel secondo livello, ovvero nel livello delle sabbie. E adesso vi farò vedere dove. Il secondo luogo dove utilizzare le scaglie di Long sono nel secondo livello, dove praticamente dovrete arrivare alla scogliera di spavento, piana delle pietre. È un'altra zona che dovrete raggiungere comunque per trama, quindi non vi preoccupate, è una zona che si raggiunge. Una volta raggiunta questa zona, però, magari i più curiosi e i più esploratori, come sono stato io all'inizio del gioco, si imbatteranno in una nuova cascata, però questa volta di sabbia. Salendo queste scale e proseguendo sempre dritto, quindi salendo tutte queste scale, si arriverà faccia a faccia con una cascata di sabbia che vi impedirà l'accesso a questa porta. Se voi, però, avete al vostro fianco le scaglie di Long, potrete aprire la porta e quindi accedere all'interno di questa struttura. La cascata di sabbia verrà flacata, ma al suo interno, come potrete notare, avrete della sabbia che vi circonda e avrete della sabbia che vi permetteranno di introdurvi a quello che sarà il boss di questa zona. Una volta affrontato il boss e sconfitto il boss di questa zona, salirete le scale alla destra dell'arena per ottenere la vostra ricompensa, ovvero un forziere che vi permetterà di ottenere ben due oggetti speciali. Il primo è un equipaggiamento, uno dei, diciamo, talismani, che è esattamente questo, il pendente di Tridacna. Il pendente di Tridacna vi consente di ridurre leggermente il tempo di recupero di tutte le magie, che è veramente, veramente figo. E inoltre potrete ovviamente equipaggiarlo e sfruttarlo, perché questo è un oggetto che comunque vi consentirà di essere sfruttato al 100%. E poi un altro oggetto che otterrete sarà un materiale di creazione, in questo caso la dorsale elettrica, materiale per armi speciali, che io ancora non ho sbloccato, perché possibilmente si sbloccherà un po' più avanti, forse dovrò completare il terzo livello per poter sbloccare nuove armi, non ne ho idea, però questa spina vertebrale di Long emana fulmini e colpisce con la forza di un tuono. Il suo scopo resta un mistero, che forse solo il futuro potrà svelare. Ecco, queste descrizioni saranno molto comuni, ovvero non vi diranno per esattezza come poter utilizzare determinati oggetti, però la maggior parte degli oggetti, in base alla categoria a cui appartengono, vi permetteranno di essere utilizzati. In questo caso è un materiale per armi speciali, quindi saprete che questo è un core unico per ottenere un'arma unica, come esattamente la coda elettrica di cui abbiamo parlato poco fa. Una volta ottenuto questi oggetti, non è finita qui, perché c'è un'altra interazione, che ancora non ho fatto, e che quindi faremo insieme, in questo video, me la sono conservata apposta, perché ho sgamato l'interazione, perché c'ero arrivato fortunatamente, perché in live me ne ero accorto, anzi, vi invito nel frattempo a seguirmi in live se volete vedere il gameplay completo di Wukong, visto che lo stiamo giocando in queste serate, ed è un'interazione che faremo insieme. Terza interazione delle scaglie di Long nell'isola della Tartaruga, quindi qui già siamo sul terzo livello, quindi io immagino che ci sarà un'interazione delle scaglie per ogni livello, quindi avremo dei boss segreti, comunque dei boss speciali per ogni livello, dove siamo appunto nell'isola della Tartaruga, nell'aspro lago. Anche questa, vi ricordo essere un'interazione, o comunque un santuario di trama, quindi non vi preoccupate, lo raggiungerete. L'interazione che dovremmo fare è esattamente, ecco, vedete? Quando appariranno le parole, vuol dire che siete vicini all'interazione delle scaglie. L'interazione è quella statua. E io l'avevo vista in live quella statua, solo che ho detto ma perché non mi fa fare nessuna interazione? E' strana questa cosa. Ora ho capito il perché. Ecco qua. Infatti ho detto, ma com'è possibile che non c'è interazione con questa statua? Sono tutti i draghi quelli che affronterete, quindi basta che voi troverete dei draghi, eccolo qua. Pronto! Il long ciano. Concentriamoci. Una boss fight, ragazzi, semplicissima. Fa sempre gli stessi attacchi, quindi basta che voi li schivate alla prima botta, aspettate che vi arrivi di spalle e lo massacrate di botte. Veramente facilissimo. E adesso vediamo che ci droppa. Questo me lo sono proprio conservato per metterlo in video, per includerlo nel video, che penso possa essere anche una cosa carina. Farvi vedere un pochettino la boss fight e tutto. Oh, sottile, file dorato! Questo mi serve per l'armatura che voglio creare io! Artiglio scuoti montagne, materiale tra l'altro leggendario. Respiro di fuoco, bevande mescolabili. E la perla di long, che ovviamente queste, secondo me, si potranno utilizzare nella... Cioè, si potranno utilizzare con long. Allora, artiglio scuoti montagne, con muscoli e giunture simili a contorti nodi legnosi, questo artiglio di long custodisce il potere di scuotere le montagne. Il suo scopo resta un mistero, che forse solo il futuro potrà svelare. Vabbè, ma si usa per costruire le armi. Mentre invece, questo cos'è? Usare il fiasco aumenta considerevolmente l'attacco del colpo rilevatore in passo illusorio. Va bene, non lo utilizzo tantissimo, quindi... E poi il filo dorato! Questo mi serve per fare l'armatura leggendaria. Questo devo craftare l'armatura leggendaria con questo. E già posso craftarne due pezzi così. Oh, oh, oh! Quindi si trovano da loro i fili dorati. Bene, bene, ottimo, ottimo. Va bene. Penso che per il momento possa essere tutto. Se ci saranno altre interazioni che scoprirò possibilmente in live o che scoprirò possibilmente in gameplay, farò una seconda parte del video dove vi spiegherò dove utilizzare la scaglia di Long nelle altre zone. Quindi, per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie per la visione!